Sembrava uno dei consueti mercoledì del gruppo di Cammino, con una piccola variante. Alla fine si sarebbe tagliato un po' di salame per fare festa assieme. Un grande applauso all'Emmanuela. Per l'idea. E in primis a Monica che dà disponibilità della stanza che non c'è poco. Ma non era un salame, era una specie di nozze. E dopo la camminata fatta, con il pensiero di quello che ci aspettava giusto, per farci venire un po' di fame siamo arrivati a questa meraviglia. Una tavola invandita con ogni ben di Dio. Guardate e non perdete ogni fotogramma che spero dia l'idea dell'entusiasmo e soprattutto dell'appetito di ogni camminatore. Dal salame alla soppressa. Alla pancetta. Uno più buono dell'altro. Patatine fritte. Baggigi. Castagne arrostite meravigliosamente e tenere come il burro. Per non parlare dei formaggi, dei vini, delle bibite, della frutta. Nulla mancava e alla fine c'era anche il caffè. Guardate come tutti a testa bassa mangiano. Un autentico omaggio alle cose buone del nostro territorio. È sempre in primo piano la maglietta gialla con la scritta Se tu doni io cammino. Verso la fine già qualcuno voleva sapere quando ci sarebbe stata la prossima. Ma sempre un buono. E ti muovo davanti con sto spirito qua che è stato al 2019. Esatto. L'importante è di fare gruppo, ripeto sempre. Ringraziamo Monica. Ciao. 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 Non vengono. Ciao. Mi ha dato più felicità perché è la stanza per me. Volevo breve. Ringrazio tutti coloro che mi ha portato qualcosa. Ciao. E arrivati. Ringrazio tutti coloro che mi ha portato qualcosa. Ciao. Ciao. Buon giorno. Buon giorno. Buon giorno.